Ciao Zuppe, eccoci qua con il primo esperimento con Periscope, questa nuova app che ci consente il video streaming in diretta su Twitter. La stiamo provando perché ci occupiamo di video e non possiamo fare a meno di provare questo tipo di applicazioni. Nel nostro blog parliamo molto rapidamente di Periscope e Meerkat, queste due nuove app che fanno sostanzialmente la stessa cosa, ti permettono cioè di postare in live streaming quello che tu stai vedendo. Periscope è quello che stiamo utilizzando di proprietà di Twitter, Meerkat è un'app indipendente che ha ottenuto variate milioni di dollari in funding, dopo essere stata presentata all'evento di Austin, Site by Southwest, che si è tenuto a metà marzo e a cui ha partecipato anche il nostro general manager Matteo. Vi invitiamo a vedere il suo report sul nostro canale YouTube, dove ci racconta tutte le novità in ambito digital che sono state presentate durante l'evento. Ennio vi racconta brevemente le news sui due contest video che abbiamo online su Zuppa. In realtà non sono tutti e due i video, ma inquadriamo Ennio. Ciao Zuppa! È il momento di tornare al core business di Zuppa, i contest. Questa settimana abbiamo ancora online sulla nostra piattaforma il contest radiofonico Tigotà. Entro il 9 aprile potrete caricare il vostro spot radiofonico oppure solo caricare il vostro concept, la vostra idea di spot. In paglio abbiamo appunto 5.000 euro messi a disposizione dell'azienda Tigotà. Per quanto riguarda invece i contenuti video, il contest online attualmente è solo affittivacanze.com. Appunto l'obiettivo è quello di creare un video che racconti l'efficienza di questo portale e che permette appunto l'affitto di vacanze estive, di case vacanze estive. Il montepremio in paglio 18.000 euro più 1.000 euro di voucher. Questa settimana, altro annuncio importante, abbiamo chiuso i contest Twills e Seven in One Shot e abbiamo appunto chiuso con l'annuncio dei vincitori, degli storyboard appunto che andranno ad essere realizzati con Twills mentre i Seven in One Shot vi ricordate il contest pensato per le sfide, una sfida appunto ed è un'idea di viral video. Per quanto riguarda il resto, già ho detto tutto Michele. Sì dai. All'interno del nostro ufficio vi facciamo vedere dove lavoriamo che è nella cornice di campagna trevigiana. Eccolo qui. Nel frattempo potete andare a vedere subito dopo il video uno dei fenomeni del momento che è Sketch She. Queste tre ragazze comiche statunitensi che hanno fatto dei video pazzeschi con più di 20 milioni di visualizzazioni. Se volete facciamo anche un balletto in ufficio. Un balletto. Ecco, questo è l'ufficio di Zuppa, dove vi saluteranno Cisco e Fabiana. Cisco vediamo se sta guardando Facebook o qualcos'altro. Fabiana non si scompone nella sua serietà. Stiamo guardando il prossimo progetto online. Ecco. Allora, è tutto per oggi. Li trovate naturalmente sul canale YouTube di Zuppa tutte le news con i link di tutto quello di cui abbiamo parlato in questa breve conversazione. Vi aspettiamo lì e sui nostri social naturalmente. Ciao ciao. Ciao. Ciao.